presto prima che ricarichi soltato Daniel va alla barriera apri un barco in quella barriera vai alla barriera ci vediamo apri un barco nel filo spinato Daniel usa il siluro ti copriamo noi una volta passati puntiamo dritti ai bunker ci siamo quasi via via fuoco le polveri forza 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 nell'attricià presto ciao